Wow che confronto, non vedo l'ora di dirvi tutto su questi due fantastici smartphone Redmi Note 7 e Realme 3 Pro E la prima cosa che ho pensato alla presentazione di Realme 3 Pro è stata Mizzica, è uguale a Redmi Note 7 E insomma adesso che li ho entrambi in mano vedete che non sono proprio uguali Ci sono due punti importanti che voglio farvi notare Il primo è a favore di Redmi Note 7 Ed è la qualità percepita, decisamente migliore perché è retro in vetro Non tiene tonnellate di ditate come l'altro Il bordo che è lucido pur essendo in plastica e inganna davvero tanto sembrando alluminio Il fatto poi che ci sia una porta di tipo C e il peso di 10 grammi maggiore lo fa apparire più solido Inoltre c'è un particolare che riguarda lo slot per SIM e microSD Vedete che su Redmi c'è una guarnizione in gomma, su Realme no Questo vi fa capire che comunque il Redmi nonostante non sia certificato è resistente all'acqua e ci sono diversi video in rete Realme 3 Pro invece non lo è Qualità costruttiva su due livelli diversi quindi Fa parte dello stesso discorso anche il display 6,3 pollici, Full HD+, LCD, IPS Apparentemente lo stesso, di fatto però quello del Redmi è migliore Si vede meglio all'aperto, a colori più fedeli e vivaci Ma la cosa più importante è il trattamento oleofobico che è di buon livello sul Redmi Mentre è pessimo sul Realme Un vero peccato perché se non lo pulite spesso rovina proprio l'esperienza di utilizzo E in particolare la qualità percepita L'altro aspetto su cui richiamo la vostra attenzione ed è quello invece su cui Realme 3 Pro ha un vantaggio È la praticità È più leggero, più compatto, con cornici nettamente più sottili attorno al display E vedendoli insieme c'è una bella differenza Assomiglia un po' al Galaxy A50 sotto questo punto di vista Davvero un ottimo lavoro da parte di Realme Un po' più grezzotto ecco così il Redmi Adesso diamo uno sguardo alla scheda tecnica di questi due smartphone Vedete che sono sul nostro sito e colgo l'occasione anche per far vedere Insomma che ci sono le schede tecniche con questa bella possibilità di confronto E una grafica a mio parere molto chiara Dunque Realme 3 Pro sulle sinistra, Redmi Note 7 sulla destra Cominciamo dalla parte di connettività Vedete che per esempio nell'upload è leggermente più veloce il Realme Mentre nel download è leggermente più veloce il Redmi Questo dipende dal modem diverso Però insomma sono sostanzialmente sullo stesso livello Molto importante, entrambi non hanno il chip NFC Poi la porta micro USB contro porta Type-C di cui vi ho già parlato Per quanto riguarda il GPS sono alla pari Radio FM è presente su tutti e due gli smartphone Per quanto riguarda le dimensioni e il peso Come vi ho detto vedete che il Redmi è leggermente più pesante 186 contro 182, dimensioni leggermente differenti Processore, abbiamo due Qualcomm Però abbiamo lo Snapdragon 710 per il Realme 3 Pro E lo Snapdragon 660 per il Redmi Note 7 Una differenza che sulla carta è abbastanza rilevante Poi vedremo che nelle prestazioni insomma sono molto vicini RAM che è da 4GB e 4GB per entrambi Qua vedete la versione da 3 però c'è anche la versione da 4 per Redmi Note 7 Memoria interna 64 e 64 anche per il Redmi Che volendo c'è anche una versione da 32GB Memoria espandibile su entrambi gli smartphone La stessa batteria, schermo che invece è da 6,3 pollici 6,3 pollici identico come abbiamo già visto La fotocamera la vedremo dopo Per quanto riguarda i sensori vedete che ci sono tutti su entrambi E poi impronta digitale che è praticamente allo stesso livello Molto veloce su tutti e due gli smartphone Per quanto riguarda le prestazioni c'è un discorso da fare Che si collega però al software Realme è potenzialmente superiore per il suo processore Di fatto però dopo essere stato configurato e usato per un po' con tante applicazioni Tende a rallentare un pochetto Più dal Redmi che tendenzialmente ho trovato più reattivo e costante Nell'utilizzo di tutti i giorni Qui è solamente questione di ottimizzazione software Entrambi comunque sono ok Non sono delle schegge ma nemmeno male In ogni caso per quello che costano Battono a mani basse tutta la concorrenza Parliamo di software E qui è un po' difficile dirvi quale sia il migliore Anzi secondo me vince tranquillamente il Realme Ma la MIUI si può tranquillamente odiare Quindi lo capisco E vedetevela un po' voi C'è da dire che Realme ha il software di Oppo Che nell'ultimo anno è cambiato moltissimo E si è rinnovato passando dal classico cinese A qualcosa di più adatto a noi Xiaomi invece va di esperienza con la MIUI Che è sulla cresta dell'onda da anni E piano piano nel tempo si è rifinita Sia graficamente che a livello di funzionalità Non mi dispiace il software di Oppo Ecco devo dire la verità Credo sia sulla strada giusta Ma ha bisogno di aggiustamenti sulla grafica E sulle traduzioni Le potenzialità però ci sono E sono molto ampie Un aspetto da tenere bene a mente Sono però gli aggiornamenti E qui ahimè si mette male per Realme O perlomeno la storia recente non gioca a suo favore Essendo Oppo tendenzialmente lenta negli aggiornamenti Rispetto a Xiaomi Che invece è una delle più veloci e costanti Anche qui però la situazione è in costante evoluzione Potrebbe cambiare e allinearsi nel tempo Parliamo di batteria È identica 4000 mAh E veramente alla fine ho fatto una gran fatica A capire quali dei due dura di più Perché? Anche perché dicevo Il Realme non ha una funzione dedicata Che mostra le ore di schermo acceso Bisogna installare app di terze parti Che però poi vanno a influire loro stesse Sull'andamento della batteria Insomma sono due battery phone direi Entrambi vi durano tranquillamente due giorni Con un utilizzo normale Mezz'ora più mezz'ora meno Ma insomma alla fine sono più o meno molto molto simili Poi un giusto accenno alla parte audio Entrambi hanno la porta per il jack Tra l'altro Redmi ha anche l'infrarosso Che invece non c'è sul Realme Ma questo non c'entra niente L'audio in capsula è identico L'audio ad altoparlante è migliore sul Realme Per quanto riguarda la parte telefonica Sono entrambi ottimi Prendono bene Nessun problema da questo punto di vista Ma c'è un'importante differenza Ovvero che il Realme ha tre slot O meglio nell'unico cassettino Ci sono tre possibili alloggiamenti Due per la nano sim E uno per la micro sd Quindi se espannete la memoria Non dovete rinunciare alla seconda sim Cosa che invece dovete fare sul Redmi Che ha solo due slot Un'ultima cosa voglio dirvela sulla ricarica Realme arriva a 18 watt Con la Superbook Che però è inclusa in confezione O meglio l'alimentatore è incluso in confezione Con il suo cavetto modificato Da una micro usb Con entrata micro usb Per portare tutta questa quantità di carica Mentre il Redmi Note 7 Supporta la Qualcomm Quick Charge 4.0 Che arriva a 20 watt Ma in confezione non troverete L'alimentatore Quick Charge 4.0 E se dovete comprarlo costa parecchio Perché è difficile da trovare in commercio A buon prezzo Insomma trovate quelli Quick Charge 2 Quick Charge 3 Quick Charge 3 Però ecco Non trovate facilmente quelli Fino a 20 watt Per quanto riguarda la fotocamera 16 megapixel f1.7 Stesso sensore di OnePlus 8T Per Realme 3 Pro 48 megapixel f1.8 Per Redmi Seconda cam Per effetto bokeh Da 5 megapixel Su entrambi Frontale da 25 megapixel Per Realme 3 Pro 13 megapixel Invece per il Redmi Note 7 Vediamo qualche foto comparativa Tra i due smartphone Sulla destra Redmi Note 7 Sulla sinistra Realme 3 Pro Vedete che già in questo caso Il Redmi Note 7 Si è comportato un pochetto meglio Perché è riuscito a rendere Meglio l'immagine Globalmente C'è poco da dire Sotto tutti i punti di vista Mentre Realme Ha un po' forzato l'HDR Andando ad appiattire Completamente le ombre Guardate per esempio Questo albero Come è stato Veramente appiattito Vedete i contrasti Sono andati Praticamente a zero Ma proseguiamo Questo è un selfie In questo caso Secondo me Insomma È più reale Io sono più bianco Esattamente come mi ha reso Redmi E meno rossiccio Come invece ha fatto Il Realme Però globalmente Direi che la foto È più o meno la stessa Lo vedete anche dal colletto Della Polo Che stavo indossando Non è del rosso Che vede il Realme 3 Pro È piuttosto Di questo Rosso Del Redmi Passiamo oltre Una foto In notturna Questa è in modalità Standard Su entrambi In questo caso Preferisco leggermente Il Realme Che ha più senso Rispetto a Una foto Un po' troppo schiarita Sul Sul Redmi Che tra l'altro Vedete che Fa comparire anche Molto rumore Qua in alto Passiamo alla successiva Perché è la modalità Notturna Vedete che Realme Sostanzialmente Tira fuori Veramente una bella foto Redmi Anche Ma sempre con gli stessi Problemi di prima Questa è un'immagine Notturna Con la modalità Notturna Vedete qua Come Realme Sia capace Di rendere meglio In realtà Il Redmi Si è comparato malissimo Ma queste sono le sue Condizioni peggiori Praticamente Solo nelle condizioni Di grande grande buio Fa questi disastri Però In generale Devo dire che Anche di notte Il Redmi Note 7 Si comporta Piuttosto bene Però in questo caso Direi che Insomma È chiaro Chi sia Il vincitore Intanto che vi faccio Scorrere le altre Immagini Vi dico anche che C'è una certa Differenza Tra i due Nel senso che Su Redmi Note 7 È possibile installare La Google Camera La stessa cosa Si può fare anche Su Realme Ma la Google Camera Del Redmi Note 7 Funziona Decisamente meglio Ecco Mi fermo su questa immagine Perché è interessante Vedere Questo aspetto Vedete che Io sono venuto Completamente mosso Sul Realme Pro 3 Perché? Perché Non lo so È un bug Tutti i selfie O quasi tutti i selfie Comunque vengono mossi Bisogna stare veramente fermi Perché lo scatto Avviene in ritardo Rispetto al momento In cui si preme Il tasto Effetto bokeh Davvero esagerato Quello del Realme 3 Pro Più coerente Senza esagerazioni Quello del Redmi Un'immagine più semplice Qua fa vedere Di nuovo Come i colori Vengono un po' sparati Sul Realme 3 Pro Nelle foto Di quando c'è tanta luce In compenso però C'è veramente Un dettaglio pazzesco Su questo smartphone Che non manca Anche sul 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 Redmi Però Quello del Realme Insomma È veramente particolare Vediamo anche Un veloce video Vedete che Sono molto simili Non c'è una grossa Differenza Arriviamo alle conclusioni Costano uguali 199 euro Per entrambi Però ci sono Alcune differenze Nel senso che Per esempio Il Redmi Lo potete trovare In negozio Quindi provare Anche con mano Prima di valutare L'acquisto Mentre il Realme Si può acquistare Solo sul sito ufficiale Ma Non fate l'errore Di giudicare male Realme Solo perché è un nome Che magari non avete Ancora sentito Perché dietro a Realme Così come Dietro a Redmi C'è Xiaomi Dietro a Realme C'è Oppo E quindi può Realme usufruire Di tutta la sua rete Di assistenza Ad esempio Che è capillare Su tutto il territorio italiano Quindi nessun problema Sotto questo punto di vista In generale Dico che Io prenderei Il Redmi Note 7 Perché? Perché nell'utilizzo Di tutti i giorni Mi ha dato Quell'impressione Di essere un dispositivo Più maturo Ha tante cosine in più La qualità costruttiva La porta type C La porta infrarossi Si sente un filino Meglio l'audio La vibrazione Mi piace Leggermente di più Lo schermo è leggermente migliore Dal punto di vista fotografico È un pochino più affidabile Poi si può installare La Google Camera E questo è solo un esempio Del fatto che comunque Redmi Essendo di Xiaomi Essendo un marchio Molto molto famoso Insomma Ha tantissime possibilità online Per chi smanetta Un pochino di più Realme comunque È un ottimo prodotto Che per esempio Si mangia tranquillamente Tutti i suoi competitor Sulla fascia bassa Mi vengono in mente I vari P Smart di Huawei Che secondo me Non reggono il passo Con questo smartphone Sia a livello tecnico Sia a livello proprio di Esperienza Di Esperienza di utilizzo Quindi Certamente Due buoni prodotti Si vede In questo caso Che Redmi E Xiaomi Dietro hanno un pochino Più di esperienza Su questa fascia Rispetto al Realme Almeno nel nostro mercato Comunque Il tempo È tutto Dalla parte Di Realme È il primo Che arriva in Italia Quindi ci sarà Tempo e modo Di migliorare ancora Per adesso Già comunque Veramente un ottimo smartphone Tant'è che Se trovate una buona offerta Beh non esitate Nel senso Che comunque Sono due prodotti Che nell'uso Di tutti i giorni Sono molto molto vicini Quindi se c'è una super offerta Beh prendete quello che Ovviamente è in offerta Bene se avete ancora qualche dubbio Sono sempre a disposizione Qua sotto nei commenti Come sempre vi chiedo Di lasciare un bel like Io sono Matteo E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao